Ture Magro, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare di un progetto teatrale che comincerà fra pochi giorni, esattamente l'11 novembre. Comincerà da un piccolo paese della provincia di Torino, esattamente da Poirino e poi da lì comincerà il suo viaggio. Comincerà il viaggio perché... Con quale mezzo? Anzitutto è precisato una cosa, quasi in senso magritiano. Questo non è un autobus. Ecco, Ture Magro, con un'esperienza teatrale infinita, come comincia questo progetto? Anzi direi questo teatro viaggiante che è dedicato a un argomento molto importante, contro la violenza di genere. Eccomi, dunque, intanto grazie per questo momento insieme per dedicarci a questo non è un autobus. Come nasce? Intanto cos'è questo non è un autobus? È un grande oggetto su ruote, quindi nasce come autobus e noi lo abbiamo trasformato in un teatro viaggiante. Lo abbiamo chiamato questo non è un autobus per creare appunto questo, anche all'interno del suo nome, è questa apertura a diverse possibilità. Ed è un autobus a due piani trasformato in teatro viaggiante lungo 15 metri, con questi due piani che abbiamo riallestito in due spazi. Vi parlo prima proprio dell'oggetto fisico, materiale, quindi il luogo. Il luogo è al secondo piano una sala con 30 posti per il pubblico e giù 20 posti, quindi all'interno del quale il pubblico vivrà una esperienza in viaggio o da fermo. Ed è un luogo nel quale accadranno diverse cose. Quindi stiamo creando e allestendo all'interno un'esperienza artistica sicuramente, che porterà lo spettatore a fare un viaggio. Un viaggio attraverso l'audio, la performance artoriale. Ed è un'esperienza interessante che stiamo vivendo anche noi da quando abbiamo deciso di acquistare questo autobus. E l'avete acquistato questo autobus Double Check in pratica, no? È un simile a quei Double Check inglesi, quelli che erano rossi, no? Sì, assolutamente. Non è un autobus inglese, ma è un Setra, quindi un autobus italiano con motore Mercedes ed è doppio, sì, due piani. Quindi il pubblico entrerà, al primo piano accadranno delle cose, troveranno un percorso di audio con cuffie Bluetooth dove si fa un'esperienza di immersione audio e poi al piano superiore invece l'esperienza performativa attoriale. I due piani spesso comunicano, abbiamo creato un micro cinema all'interno, lo faremo in alcune valli del Piacentino e anche lì a Poirino, queste esperienze di cinema per bambini, adulti. E' un moderno carro di Tespi che riparte, il concetto per noi è quello di rimetterci in cammino, andare verso il pubblico. Quindi voi arrivate, per così dire, in un paese, in questo caso Poirino, dove parte la tournée, vi piazzate in un luogo, nella piazza ovviamente, e da lì comincia, comincia il viaggio di questo autobus che è fermo ma che fa viaggiare lo sguardo, la fantasia e anche e soprattutto la coscienza degli spettatori. Assolutamente, arrivando il pubblico vede un lato dell'autobus ha questa frase con suo scritto questo non è un autobus e dall'altro lato invece abbiamo creato una grafica con un wrapping che assomiglia ad un tendone da circo, diciamo così, e quello è il fondo, il fondale di questo teatro, perché ci saranno spettacoli all'aperto e spettacoli all'interno. E c'è un carro che arriva e si ferma in un luogo per cambiare anche il luogo, dare un segno, un oggetto anche molto visibile, quindi l'idea è di portare un po' di meraviglia, portare qualche domanda, anche soltanto questo non è un autobus, ti pone davanti alla domanda e allora che cos'è? E allora riportare un po' di domande, seminare un po' di dubbi tra il pubblico e accoglierli poi dentro un luogo di meraviglia in qualche modo. Sì, di meraviglia inaspettata, perché poi su un autobus si fa un viaggio, a volte di lavoro, a volte di piacere, e questo è un viaggio di piacere e di presa di coscienza, torno su questo concetto, perché questo è molto importante, perché attraverso l'installazione artistica, che è questo autobus, che non è un autobus, attraverso lo spettacolo si attiva proprio questa forma di coscienza importante. Perché cominciate proprio da Poirino? Iniziamo da Poirino perché, e così rispondo alla prima domanda del come è nato il progetto, perché lì a Poirino circa due anni fa abbiamo rappresentato uno spettacolo dal titolo Malanova, che è un lavoro che viaggia da tantissimi anni, uno spettacolo che porto in tournée io personalmente da moltissimi anni, e dopo quello spettacolo è nata la voglia da parte di questo piccolissimo comune di produrre un nuovo spettacolo. Allora, dato il loro grande entusiasmo di questa amministrazione, ho lanciato un po' lì una fotografia dicendo, ma più che una produzione teatrale, oggi secondo me dovremmo ritornare tra il pubblico. Acquistiamo un autobus e viaggiamo su un autobus in giro per l'Italia raccontando storie. E allora da lì è partita la voglia di immergersi in questo viaggio, sostenerlo. Voi immaginate poi tutto il percorso di raccolta fondi per riuscire ad acquistarlo, un autobus che non è una bicicletta, non è una piccola macchina, ma costa come dire. E quindi è stata bellissima questa grande partecipazione. Da lì è nato, quindi da questa sfida accolta da questo piccolo comune. E poi abbiamo iniziato un bellissimo percorso di confronto. E siamo arrivati qui il giorno 11, restituiremo al pubblico tutto il sostegno che il pubblico ci ha dato, già partendo da Poirino anni fa. Abbiamo avuto il grande blocco del Covid, quindi ci siamo fermati un po'. Adesso finalmente si riparte. E adesso si riparte. Poco fa tu, Remagro, ho detto una cosa su cui vorrei ritornare, che forse, se ho ben compreso, che forse oggi il teatro non basta più. E la forma del teatro, del palco, che è sempre importante, sempre necessaria, bisogna cercare delle strade nuove. E questo pullman, questo bus, le strade nuove ricerca, perché va a cercare il pubblico, va incontro al pubblico. Non è che io devo uscire di casa e andare a sedermi a teatro. No, io devo uscire di casa, stare nella piazza e nello stesso tempo andare a teatro. Ed è uno sguardo diverso, in ogni modo. Assolutamente. Infatti, io non so se il teatro oggi non basta più. Oggi tantissime cose non bastano più. Siamo all'interno di una vita molto veloce, dove tutti gli input che riceviamo non riusciamo più neanche ad analizzarli. Ma quello che accade in questo piccolo progetto è che abbiamo deciso di ripartire da un concetto semplicissimo. Ed è cos'è che anni fa, ma parlo di 500 anni fa, di 300, di 200 anni fa, meravigliava le persone quando si avvicinavano all'elemento teatrale, che era l'elemento poi del rito della collettività. Ed era questo arrivare in un luogo e ritrovare qualcosa di diverso, qualcosa che ti permetteva di fare un viaggio. Oggi, ovviamente, attraverso i mezzi nuovi di comunicazione abbiamo moltissime possibilità di fare dei viaggi da casa con l'audiovisuale. Allora, lì abbiamo detto, proviamo a trovare un elemento nuovo che si aggancia a una tradizione antica del nostro teatro, che è quella della commedia dell'arte, dei carri che viaggiavano. E allora da lì ci siamo detti, partiamo così e riportiamo in piazza un elemento che quando arriva comunque viene notato. perché questo grande muro, questo grande autobus di 15 metri per 4 metri viene notato. E notandolo magari nasce un po' di curiosità, quindi ritrovare quell'elemento di curiosità. Poi, entrato dentro, lo spettatore comunque entra all'interno di quella macchina, che è quella teatrale del nostro mestiere, che è quello di riagganciare il pubblico e portarlo all'interno di un viaggio emozionale. Quindi, non che sia uno stratagemma, non intendo questo, intendo dire che riportare un segno, un segno che noti nel tuo luogo, perché se vivi nella tua piazza, la vedi sempre allo stesso modo, se trovi per un attimo un elemento diverso, ti incuriosisce. E quello è il nostro richiamo verso il pubblico. E poi il pubblico su questo bus vive questa esperienza in uno spazio piccolo. Quindi c'è un contatto sia con chi fa lo spettacolo e sia con le persone che assistono allo spettacolo. Quindi c'è anche questo essere dentro una zona teatrale, chiamiamola così, ma in una forma molto diversa. E sia anche un po' partecipi della scena, perché non c'è il palco in alto, è tutto lo stesso piano. Assolutamente. E la condizione che vive sia lo spettatore che chi performa è una condizione molto particolare, perché lo spettatore, io ho fatto delle prove ultimamente lì all'interno di questo spazio bellissimo, ed è lo spettatore che vive a 10 centimetri da te. Quindi cambia tutto. Cambia il modo in cui ti relazioni a lui. ed è interessante, perché in quello spazio così intimo puoi andare anche più in profondità. Quindi non è frontale, come spesso è il teatro italiano, anche per conformazione strutturale dei nostri teatri, e spesso il teatro italiano si è evoluto molto, ma in forma frontale rispetto a teatri in altri paesi. E invece qui si ricrea questa condizione in cui lo spettatore è vicinissimo. Quindi è come se foste seduti intorno a un tavolo, a incontrarvi. Quindi la parola assume un ruolo molto importante, perché una parola lì dentro ha un peso diverso, e i silenzi altrettanto. E' tutto molto particolare. E può essere anche molto forte, perché quando poi trattiamo alcune tematiche, come in questo caso, dove la parola violenza passa spesso, in tutte le sue sfaccettature, può essere molto, molto forte per lo spettatore. Ed è interessante, perché abbiamo bisogno di scuoterci. Il teatro può servire anche a questo. Eh sì, abbiamo bisogno di scuoterci. Una volta a Ture Magro si parlava di teatro civile, ma esiste ancora? Ma guarda, io risponderei come... Al di là dell'etichetta, no? Potrebbe rispondere forse un Celestini, che direbbe allora se esiste un teatro civile, dobbiamo dire che ne esiste uno in civile. Certo, infatti mi ricordo della sua... Il teatro per sua natura è... Io direi che esiste un teatro politico, nel senso più nobile del termine. Quindi un teatro che si occupa... di quello che accade, di quello che stiamo vivendo. E su questo, beh, potremmo parlarne moltissimo, ovviamente. Non so cosa esiste oggi nel teatro. Il teatro oggi è un teatro in Italia, spesso che va verso la televisione. Oggi spesso c'è una televisione che va a teatro. È una grande questione. Lì dipende dal pubblico, forse. Forse dipende dalla paura che abbiamo i programmatori di azzardare. O anche, e concludo, in questo mi taccio, non vorrei essere in nessun modo una critica a chi fa il nostro mestiere, ma quasi un'esortazione, forse anche dal poco tempo che oggi c'è. Oggi è talmente tutto veloce che non ci prendiamo il tempo di stare con il nostro pubblico, di creare una relazione con il nostro pubblico lunga, che possa portare il pubblico anche a vedere dell'alto. E questo non necessariamente deve essere fatto in maniera rigida o anche difficile da concepire per il pubblico. Ma intendo viaggi, viaggi che si possono vivere col pubblico. Per cui io credo che dipenda da tante cose. Non stiamo facendo un'azione di teatro civile. Se così è, vuol dire che lo abbiamo sempre fatto allora. e stiamo prendendo il pubblico per mano e portandolo all'interno di alcune vite. In questo caso, come in questo periodo, questi tre mesi di viaggio che vivremo in Piemonte, nelle valli piacentine, è un viaggio attraverso quello che accade tra uomo e donna in una relazione, per esempio. La difficoltà incredibile che si vive, soprattutto oggi, e quindi tutto quello che poi fa scaturire una violenza. E questo è importante, perché come diceva poco fa Ture Mago, bisogna scuotere le coscienze. E forse proprio in un ambito del teatro la coscienza ha più facilità di essere scossa perché dobbiamo ogni tanto ricevere delle scosse, per dirla caffianamente, di quell'ascia che ci entra e penetra nella nostra mente, nel cuore, nella coscienza. Questo non è un autobus, il teatro viaggiante che abbiamo raccontato contro la violenza di genere che comincerà l'11 novembre a Poirino, in provincia di Torino. Ma prima di salutarci, Ture Mago, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni, ve lo dico serenamente, perché mi è capitato di leggere, l'ho appena finito, sono i Leoni di Sicilia, sono appena stato in Sicilia, l'ho vissuto, l'ho appena concluso, entrambi i libri, ed è stato un bel viaggio. Poi io sono nato in Sicilia, rientro adesso da queste giornate a Teatro Libero di Palermo, dove ho incontrato 500 ragazzi al giorno, dove ho raccontato una storia accaduta in Veneto, e quindi questi due libri, è stato un bello modo per rivedere, poi ritornare a Palermo, dopo aver letto questo libro, è stato molto interessante come viaggio. Grazie davvero per il viaggio raccontato con il bus, questo non è un autobus, e grazie anche per il viaggio verso la Sicilia, con il libro di Stefania Aucci. Buona giornata Ture Magro. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. Buona giornata.